Bucaioli, oggi siamo a Empoli per vedere come si fa a preparare il pollo all'empolese, il tipico pollo che solo a Empoli sanno preparare. Come state vedendo in queste immagini, il pollo viene prima speziao, con questa spezia, viene ambrao, il turmerice viene aggiunto e con le mani lerce, sudice, viene rimestato. Poi voi prendete un comero e voi li levate dentro, vedete questo ragazzo con questo cortello disinfettato con lo spirito. Qui tu ci puoi mangiare per la terra. Ecco il comero viene messo in questo piatto e buttato via, nissudice. Poi il pollo viene inserito all'interno di questo comero svuotato, viene richiuso e con questi aghi da maglia, vedete, pressi in prestito da cinessi ai marcolotto, viene richiuso il comero. In questo momento sta abbrustolendo sui fogo a fogo lento, 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 lento. Ma que squisitezza. Ragazzi il pollo all'empolese è una cosa tutta da provare, famoso ormai in mondo. Che si provino a Firenze a fare i pollo all'empolese, un gli riuscirebbe, os. Perché ricordiamo che solo a Empoli sanno fare i pollo all'empolese. A Vinci non lo sanno fare, per esempio. A Fuscecchio un gli viene, come gli viene agli empolesi. Ma vediamo questo ragazzo a norma di gene, questo ragazzo disinfettato dall'asle. Questi ragazzi, anzi, che stanno assaggiando questa squisitezza. Grazie.